Buonasera a tutti e tutte, io sono Emanuele, uno dei tutor del Master in Diritto e Politica delle Migrazioni che promuove questo percorso. Il percorso si chiama Dialoghi di Diritto e Politica delle Migrazioni perché il senso che vogliamo dare a questi incontri è quello di aprire la quarta parete dell'Università e dialogare appunto con l'esterno. Lo facciamo attraverso delle esperienze, attraverso l'invito a Trento in presenza o a distanza di alcune persone che ci possano dare una mano a riflettere su alcune delle tematiche che con il Master e con il gruppo di ricerca International Migration Laboratory ci capita di affrontare. Quest'anno abbiamo scelto di focalizzare il tema dei dialoghi attorno alla dimensione del rapporto tra migrazioni e lavoro. L'abbiamo fatto perché per lungo tempo il lavoro è stato al centro di alcune delle dinamiche legate ai processi di integrazione delle persone migranti, in particolare delle persone richiedenti protezione internazionale, ma non solo. Il lavoro, lo sappiamo, è uno degli pochi ultimi strumenti che consentono l'accesso. E anche qui ci sono dei punti di domanda sparsi nella frase che ho appena detto e punti di domanda che proviamo ad affrontare anche questa sera. La volta scorsa, per fare un veloce ricapitolo delle puntate precedenti, ci siamo concentrati su un'altra domanda. La domanda era di che lavoro parliamo. Partiva da una riflessione che nasce da alcune osservazioni, se volete, anche un po' macroscopiche. Il Censis quest'anno ci dice che per gli italiani il lavoro ha perso senso come valore indicativo e direzione attraverso la quale trovare il proprio senso all'interno della propria vita. Ci siamo chiesti questo lavoro che il valore avesse sia in termini appunto di valore, perdonate la ripetizione, sia in termini di strumento per i processi, per immaginare i percorsi migratori. Ne abbiamo parlato con alcune delle nostre ospiti. Trovate la registrazione di questo primo appuntamento su il canale YouTube della Facoltà di Giurisprudenza. Se volete andare a ripercorrerlo, questa sera andiamo un passo oltre. Un passo oltre perché la domanda che ci facciamo è Lavoro è integrazione? Ce la facciamo partendo da una consapevolezza negli ultimi anni, per molto molto tempo. È stato uno degli orientamenti della giurisprudenza riconoscere il percorso lavorativo come uno degli strumenti per riconoscere integrazione. Abbiamo costruito interi sistemi di riconoscimento di forme specifiche di protezione su questo cardine. Questi elementi negli ultimi due, tre, quattro anni stanno cambiando, stanno cambiando in maniera anche molto importante. Perciò questa sera vorremmo riflettere attorno a questa domanda con tre prospettive diverse, ma che crediamo essere complementari e utili poi a innescare il dibattito con voi, perché lo scopo originario sempre di questi incontri è abbattere la quarta parete. Lo facciamo grazie al Presidente del Centro Studi IDOS, Luca Di Sciullo, che è in collegamento con noi da Roma, a cui tra poco cederò la parola. Il Centro Studi IDOS ogni anno pubblica un dossier statistico in migrazione, che come facoltà da un paio d'anni ospitiamo la presentazione appunto del nuovo numero verso la fine di ottobre. Sul dossier di quest'anno ci sono tutta una serie di riflessioni legate al binomio lavoro-sistema di tutela sociale per le persone migranti e per le persone straniere. Da qui vorremmo un po' partire per capire questa domanda, se trova ancora una risposta positiva o che tipo di risposte sta trovando all'interno del nostro ordinamento. Dopodiché proseguiremo questo ragionamento grazie alla dottoressa Carlotta Giordani, ricercatrice all'OIUAV di Venezia, amica del master e diciamo nostra complice in questi dialoghi, con la quale cerchiamo di andare ad approfondire la dinamica del lavoro come chiave di integrazione territoriale. Quindi sia per le persone che arrivano sui territori che da un certo punto di vista anche per i territori stessi, come si va a innescare nelle dinamiche di integrazione territoriale. Dopodiché passeremo la parola a Silvia Valduga, operatrice di Atas Onlus, che ci darà una mano a entrare di nuovo nella materia viva, vi avrebbe da dire non che prima parliamo di cose astratte, parliamo sempre di materia viva, ma proprio nella dimensione della dinamica relazionale che spesso sta attorno a quella parola integrazione e che talvolta guardando soltanto all'apparato normativo, alla giurisprudenza, rischiamo di perdere un po' di vista. Io ho parlato anche troppo, lascio il tavolo, come dire, ai nostri tre ospiti, partendo dal dottor Di Sciullo, dopodiché si apre la parte di domande e dialoghiamo. Grazie davvero a tutti e a tutte, buon lavoro. Grazie, grazie a voi intanto dell'invito, sono molto contento di essere qui tra di voi. Grazie al professor Pastorino, grazie a voi che state seguendo. E qui la questione direi che è di fondamentale importanza, cioè di capire se il lavoro è effettivamente un fattore di integrazione per la popolazione straniera che vive in Italia. La domanda non è oziosa, anche se di primo a chi vorrebbe rispondere assolutamente sì. Spero che l'inserimento occupazionale dei migranti, che viene considerato dalla letteratura corrente, come la chiave della loro stessa integrazione, come è stato ricordato. Però bisogna qui fare delle puntualizzazioni perché proprio il lavoro è uno di quegli ambiti che viene più penalizzato sul piano normativo, quindi sul piano della gestione degli ingressi, anche del tipo di inserimento della qualità, dell'inserimento occupazionale, e che presenta tutta una serie di problematicità che mostrano in effetti e sono il riflesso di quanto la stessa integrazione in Italia, l'integrazione degli stranieri, sia problematica. Quindi è al tempo stesso la chiave dell'integrazione, ma anche la spia della mancata integrazione. E allora io vorrei con voi di percorrere, sia pure brevemente perché il tempo è un po' stretto, alcuni dati più strutturali sull'occupazione della popolazione immigrata nel nostro paese, poi fare alcune considerazioni del legame che c'è tra questi dati e lo stato di attuazione dell'integrazione. Noi abbiamo in Italia circa 5 milioni di residenti stranieri, una quota abbastanza fissa, almeno 6-7 anni, rispetto della retorica che vuole che l'Italia sia sotto invasione. ovviamente questa quota è fissa non perché si tratta sempre di queste persone, ma è il risultato, tutta una serie di movimenti, un'entrata e un'uscita e in uscita, quindi è il risultato del saldo migratorio, ma anche del saldo naturale della popolazione, che contempla da una parte ingressi dall'estero, però sempre meno, da un'altra parte le nascite di bambini stranieri, però in uscita, diciamo così, abbiamo in uscita, tra virgolette, anche alti tassi di acquisizione della cittadinanza italiana negli ultimi anni. In particolare nello scorso anno abbiamo superato, per la seconda volta, dopo il 2016, la 8 mila, vito senz'altro molto su questo tema. Tuttavia noi siamo, nonostante questa movimentazione interna, il saldo è abbastanza stabile tra diversi anni, questi anni. Abbiamo 2.374.000 occupati stranieri, la maggioranza si tratta di uomini, le donne incidono per poco del 42%, i quali rappresentano un decimo di tutti gli occupati in Italia. I stranieri incidono per l'8,7%, quindi abbiamo una sovra rappresentanza tra i lavoratori impiegati della componente straniera rispetto a quello che noi osserviamo in mezzo alla popolazione. Noi abbiamo un sistema normativo piuttosto problematico. Noi sappiamo bene quali sono i meccanismi di ingresso e di inserimento nel mondo del lavoro che vengono riservati dall'attuale incanto normativo ai migranti. Sono meccanismi, da più parti direi quasi trasversalmente, paradossali. Quindi persiste ancora la chiamata nominativa dall'estero dei lavoratori non comunitari, una chiamata che dalla legge Bossi-Fini, quindi da 21 anni, salda in maniera rigida il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno alla vigenza di un contratto di lavoro, perché la normativa ha anche forgiato questo neologismo, il contratto di soggiorno. Sappiamo tutti che a seguire la normativa, paradossalmente, il datore di lavoro dovrebbe chiamare nominativamente uno straniero che teoricamente dovrebbe trovarsi all'estero senza averlo mai prima conosciuto direttamente dichiarando la disponibilità a contrattualizzare proprio lui criminalmente. E poi sappiamo che il lavoratore, secondo la legge, dovrebbe entrare in Italia viene convocato in prefettura insieme al datore di lavoro, in prefettura viene firmato il contratto di lavoro e a seguito del contratto di lavoro viene rilasciato il sottotitolo. Il contratto di lavoro diventa una condizione sine qua non per l'ottenimento del permesso di soggiorno e la vigenza di un contratto di lavoro diventa la condizione sine qua non a ogni scadenza del contratto del permesso di soggiorno per lavoro e come condizione inevitabile per il rinnovo. Quindi c'è una saldatura strutturale del permesso di soggiorno col contratto di lavoro. Ovviamente noi sappiamo da anni questa procedura così assurda anche perché i quarti dei lavoratori staglieri vengono assunti da imprese meglio piccole pure dalle famiglie per il lavoro domestico e non sappiamo tutti che una condizione familiare o poco più abbia bisogno di qualche addetto o addirittura una famiglia mai si sognerebbero di impiegare in nero più che in nero al buio il nero è un'altra cosa impiegare al buio un lavoratore rischiando quindi noi sappiamo che ci sono stati abusi tematici per cui questo sistema questo meccanismo viene aggirato impiegando prima in nero il diretto interessato e poi le quote d'ingresso vengono utilizzate come una struttura sanatoria mascherata quindi c'è un problema di gestione dei meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro dei lavoratori provenienti dall'estero è stata per 12 anni un blocco delle quote se noi prescindiamo dal 2023 quando per la prima volta il governo ha ripreso la programmazione triennale che è pure prevista dalla legge ma che era stata fatta solo tre volte nel passato e l'ultima era stata nel 2005 quindi con il 2005 a 2023 noi abbiamo avuto un vuoto di programmazione triennale per le quote d'ingresso e le quote d'ingresso venivano stabilite senza programmazione a tavolina per numeri molto esigui rispetto al fabbisogno scolato del mercato dell'unico in questi anni in questo lasso di tempo le quote si sono soffermate grossomodo intorno alle 30 32 mila mentre il fabbisogno del mercato il fabbisogno strutturale del nostro mercato interno è di centinaia di migliaia di lavoratori annuali e anche con l'ultima programmazione che è stata riattivata nel 2023 dall'attuale governo noi abbiamo in tre anni 452 mila ingressi consentiti dalle quote distribuiti sul triennio ma lo stesso ministero dell'interno ha calcolato che il fabbisogno reale del nostro mercato dell'unico è di 833 mila posti nello stesso triennio quindi le quote sono diciamo rispondono a circa il 60% del fabbisogno quindi c'è anche questo problema il divario tra gli ingressi consentiti e il reale fabbisogno del nostro sistema poi bisogna anche dire che molti soprattutto in questi ultimi anni in questo lasso che vi dicevo le quote che pure erano esegue intorno alle 30 mila come dicevo erano per lo più occupate da ingressi non effettivi oppure da ingressi provvisori perché la maggior parte delle quote erano erose o da conversioni del permesso di soggiorno quindi si dava la possibilità a chi era già qui in Italia gli stranieri già presenti in Italia di convertire il proprio permesso per un motivo X in un permesso per lavoro ingressi effettivi oppure queste quote erano in gran parte anche riservate a lavoratori stagionali che quindi per definizione non si inseriscono in maniera strutturale nel mercato cosa vuol dire questo che noi per circa 12 anni abbiamo di fatto tenuto chiuso l'unico canale di ingresso regolare dei lavoratori stranieri in Italia questo è il quadro normativo adesso andiamo nella effettualità il quadro normativo presenta tutte queste criticità che cosa succede poi di fatto di fatto anche a fronte di questi difetti strutturali delle norme si è affermato preso piede poi si è consolidato poi diventato strutturale adesso è diventato un ratronico un modello di inserimento occupazionale degli stranieri che noi potremmo chiamare a ragione segregazione occupazionale in cosa consiste questo modello una cosa che tutti noi sappiamo già sono decenni che i lavoratori stranieri in Italia vengono convogliati in massa e tenuti schiacciati sui gradini più bassi della scala delle professioni noi sappiamo tutti i lavori che fanno gli stranieri sono manovali sono fattini sono operai sono fuochi sono camerieri sono addetti alle pulizie sono addetti alle alture domestiche anche per persone sono trasportori sono addetti ai trasporti alla logistica tutti i lavori che qualche studioso qui in Italia ha definito delle 5P precari pericolosi poco pagati poco riconosciuti socialmente e pesanti oppure in ambito anglosassone delle 3D dirty dangerous demeaning cioè lavori sporchi lavori pericolosi lavori squalificati e squalificati noi abbiamo visto che un lavoratore che inizia con questo tipo di professioni poi non esce più perché dopo 10 oggi 15 anni che fa questo tipo di lavoro continua a fare questo tipo di occupazione quindi noi schiacciamo e teniamo schiacciata la manodopera stagnera che si chiama il mercato del lavoro secondario perché abbiamo un mercato del lavoro segmentato quindi questo è duale ecco in questa in questo diciamo in questo segmento più e qualificato viene convogliata in massa la manodopera stagnera quindi non c'è neanche competizione nel mondo del lavoro abbiamo un modello quindi di segregazione occupazionale che si è talmente dicevo cancrenizzato che addirittura è diventato etnico uno per facilitare potrebbe dire dimmi di che nazionalità sei io ti dico che lavoro fai perché perché alcune specifiche provenienze si sono specializzate nell'occupare gli interstizi di certi comparti specifici come sappiamo benissimo su questo hanno lavorato molto e hanno diciamo avvito a questa etnicizzazione tra virgolette del mercato del lavoro anche le categorie cioè i primi pionieri che trovavano lavori in certi comparti hanno cominciato a richiamare dall'estero propri connazionali spesso hanno parenti per ricoprire posti di lavoro dello stesso compatto quando venivano a sapere che c'era bisogno di noi così quindi abbiamo un irrigidimento dell'impiego della manodopera straniera per comparti e secondo quella segmentazione quindi una segregazione ovviamente che cosa significa questo che questo tipo di lavoro ha delle sacche di irregolarità molto forti spesso i lavoratori stranieri vengono impiegati in nero oppure anche tratti grigi diciamo diciamo or dichiarate solo in parte in altra parte svolgono in nero pensiamo al lavoro domestico per esempio stavano i campi e ovviamente avendo una condizione giuridica piuttosto precaria per la rigidità della borsi fini che dicevo prima il rischio è che cadano nella irregolarità così è stata data ai datori di lavoro anche un forte potere ricattatorio quando devono contrattare con il lavoratore straniero nel senso che è gioco forza per loro imporre condizioni di abuso e anche di sfruttamento a volte anche grave pena il mancato definizione di un contratto e quindi la caduta immediata caduta nella irregolarità del lavoratore stante appunto questa connessione rigida che si è stretta dalla borsa il permesso di soggiorno e il contratto del lavoro in esse quindi i migranti hanno bisogno di un contratto per rimanere regolari per non essere espellibili dal territorio e rimanere fuori dal territorio anche per anni perché voglio ricordare che chi viene espulso ha il pieto di entrare in Italia per diversi anni e quindi è un'arma di ricatta data in mano ai datori di lavoro che cosa c'entra tutto questo con l'integrazione come penso che anche voi vediate c'entra molto è molto indicativo che noi come paese che pure siamo un paese di immigrazione da 50 anni non abbiamo ancora una norma nazionale una legge quadro e io vorrei qui mettere a due punti e poi finisco l'intervento con questa riflessione che riguarda l'integrazione a che punto siamo con l'integrazione in Italia beh noi potremmo dire che l'integrazione nel nostro paese è normativamente assente è il primo punto è concettualmente fraintesa questo è il secondo punto ed è operativamente disattesa spieghiamo un pochino molto velocemente perché l'integrazione è normativamente assente per i motivi che dicevo poco anzi manca una legge quadro in Italia che faccia da riferimento unitario alle iniziative di integrazione territoriali noi sappiamo che le politiche di integrazione in Italia sono demandate a livello regionale ogni regione opera promuove politiche di integrazione in maniera piuttosto disordinata e a pelle di leopardo alcune hanno leggi di integrazione altri no e ciascuno regola gli ambiti dell'integrazione come vuole nei confronti degli stagni non solo ma queste leggi regionali sull'integrazione sono per lo più declinate sui bisogni essenziali cosa prevede normalmente se c'è una legge sull'integrazione regionale prevede meccanismi di accesso degli stagneri alle case alle case popolari meccanismi di assegnazione delle abitazioni l'inserimento nel lavoro bene che vada attraverso meccanismi di matching tra domanda e offerta a volte facendo perno sul privato sociale noi sappiamo che gli uffici di collocamento valiscono in questo voi pensate che per quanto riguarda la popolazione straniera un ufficio per l'impiego riesce effettivamente a trovare un lavoro per chi è iscritto in circa il 3% dei casi quindi è un totale fallimento oppure misure di sostegno al reddito buoni mensa buoni bebe assegni segni misure insomma di sostegno al reddito per il più e questo ci porta all'altro punto dicevo l'integrazione oltre ad essere normativamente assente non c'è una legge quattro che unifichi almeno per grandi linee di politica di integrazione imponga le regioni almeno il minimo pare dell'integrazione dei migranti l'integrazione è anche un concetto un concetto frainteso perché tutte queste dimensioni che io vi ho citato la casa il lavoro le misure di sostegno al reddito l'inserimento nella scuola gli aspetti previdenziali l'ingresso e la fruizione dei servizi sociali e così via certamente hanno a che fare con l'integrazione ma non sono l'integrazione uno straniero che pure per ipotesi abbia una casa un lavoro abbia una buona situazione di reddito acceda a condizioni paritarie ai servizi ai fondamentali servizi e beni di welfare alla sanità alla scuola all'istruzione alla previdenza è possibile anche che non sia integrato che non si sia integrato nel contesto sociale che non si sente integrato che magari venga rifiutato quindi questi questi ambiti pur importanti non costituiscono l'integrazione e noi abbiamo avuto un impicciolimento semantico proprio del termine integrazione pensando che quando uno risolve questi ambiti abbia automaticamente integrato i migrati non è così e allora che cos'è l'integrazione un fenomeno complesso un concetto non univoco che certamente tocca queste dimensioni ma non si esaurisce nessuna di queste neanche nella loro somma integrazione è quello che molti documenti illuminati dell'Unione Europea soprattutto negli inizi degli anni 2000 una sterzata a 180 gradi anche delle sue politiche migratorie tutto dopo il 2011 la morte di Kheddafi era in Siria la pressione migratoria le primavere arabe la grande sterzata dell'Unione Europea ma prima di quella data l'Unione Europea aveva prodotto documenti molto illuminati sull'integrazione e diceva che l'integrazione è un processo più univoco che parte dal basso quindi non è una faccenda che si gioca tra gli immigrati e lo Stato parte dal basso si gioca nel basso che vuol dire tra le componenti della società civile l'integrazione si gioca tra gli immigrati e gli italiani e allora che funzione ha lo Stato lo Stato non è l'interlocutore degli immigrati per integrarsi lo Stato ha una funzione di garanzia che significa creare le condizioni di parità effettiva per italiani e stranieri queste condizioni di parità effettiva ovviamente si giocano negli ambiti che ho appena citato l'accesso alla casa a condizioni di parità l'accesso al lavoro a condizioni di parità l'accesso ai servizi ai beni fondamentali di welfare in condizioni di parità quindi garantire una parità effettiva perché perché la parità effettiva tra le componenti della società civile italiani e stranieri è la precondizione non è l'integrazione la precondizione perché un processo di integrazione tra italiani e stranieri possa prendere avvio l'integrazione i processi di integrazione non partiranno mai se noi abbiamo una delle componenti uno degli attori del processo in particolare gli stranieri che sono tenuti di fatto in una situazione di subordine e di mancato riconoscimento nella loro dignità nella loro parità rispetto all'altra parte proprio non partono i processi questo viene quindi il Stato si preoccupa di creare le precondizioni perché i processi di integrazione partano ma non non è un attore della integrazione e poi terzo punto e finisco l'interfente l'integrazione è anche qualcosa di operativamente disatteso perché c'è una latitanza delle politiche c'è una un'alternanza tra immobilismo equazione a ripetere noi abbiamo visto affermarsi due modelli uno che vi ho appena illustrato sul treno dell'inserimento equazionale si è di fatto affermato un modello di segregazione equazionale dei migranti che è la negazione più evidente di uno stato di parità tra i lavoratori italiani e stranieri nell'ingresso e nella funzione del mercato del lavoro ma anche sul piano dell'inserimento sociale dei migranti noi da anni si stiamo e si è consolidato il modello di subalternità sociale degli stranieri lo slogan prima gli italiani prima di essere un modello prima di essere un slogan è già qualcosa che arriva dei fatti gli stranieri nell'accesso ai servizi di welfare nell'accesso ai servizi sociali sono da decenni subalterni agli italiani e ci sono strutture locali e nazionali che lo sappiamo che innalzano il requisito aggiungono requisiti o stativi per rendere proibitivo questo accesso agli stranieri rispetto agli italiani cosa che la giurisprudenza puntualmente boccia ma che le strutture i comuni gli enti locali puntualmente reinseriscono in maniera illegittima e io direi che il segno più evidente del fatto che l'integrazione venga operativamente disattesa è che quando noi oggi parliamo di integrazione demandiamo l'operatività dell'integrazione a cosa? A progetti noi chiediamo che il terzo settore si impegni esso stesso in progetti con le regioni con i ministeri attraverso bandi attraverso il fame e così via che curino l'integrazione degli stranieri quindi l'integrazione è lasciata alla fantasia del terzo settore ma lo Stato disattende operativamente l'integrazione il terzo settore supplisce alla diciamo alle carenze all'immobilismo dello Stato inventando attraverso progetti più o meno innovativi equazioni di integrazione il problema è che non c'è il passaggio tra le buone prassi che così vengono maturate attraverso la progettazione noi sappiamo che i progetti per definizione iniziano e finiscono quindi oranei conoscono tanti progetti lodevoli hanno iniziato anche delle prassi innovative delle buone prassi di integrazione è demandata la fantasia del terzo settore il fatto è che quando finisce il progetto finisce anche la buona azione la buona prassi cioè è bloccato il passaggio dalle buone prassi alle polisi quando noi noi abbiamo cumulato un tesoro un patrimonio di buone prassi che però stenta anzi non diventa mai politica mainstream non diventa mai una polisi questo è l'altro problema quindi ecco spero di avere un po' tratteggiato sia pure brevemente dei problemi piuttosto gravi che riguardano la gestione dei migranti economici meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro le disfunzioni normative e operative anche legate alla governance e i riflessi che tutta questa problematicità e la costituzione di un modello di segregazione ha in termini di mancata integrazione grazie buonasera a tutti allora io in realtà parto dal presupposto che molte delle questioni sulle quali anch'io ho riflettuto sono state toccate soprattutto per quanto riguarda la funzione dello Stato per quanto riguarda la progettualità le buone quelle che io definirei pratiche non prassi e ovviamente quindi l'impatto che un certo tipo di azioni hanno sui territori ma volevo ripartire questo per dire che effettivamente i punti lo sappiamo sono questi dipende dalle prospettive con i quali le vogliamo guardare chiaramente volevo ripartire un po' il ragionamento e riprendere il ragionamento con voi perché quando parliamo di integrazione sì lavoro integrazione sì lavoro integrazione no secondo me le risposte sono tutte e due valide poi mi direte voi cosa ne pensate perché volevo farla diventare anche una riflessione insieme a voi rispetto a queste a questa questione e però secondo me per farci questa questa domanda abbiamo un po' ragionare su quella che è l'architettura della costruzione di un sistema in cui si può effettivamente andare a ragionare sull'integrazione quindi vi chiedo di fare un passaggio e uno zoom out come mi piace definirlo e quindi guardare prima la cosa da una prospettiva macro per poi fare un ragionamento anch'io lo farei sugli strumenti normativi ma proprio lo strumento normativo inteso come strumento di costruzione di questa architettura ok per arrivare agli effetti che ha su il territorio quindi su dove questa architettura questa casa viene costruita quindi questo è un po' il ragionamento che volevo far con voi per cercare di capire insieme se sì o no il lavoro è integrazione io partirei facendo questo zoom out dicendo che la relazione la prima relazione che noi dovremmo prendere in considerazione è quella del rapporto tra il fenomeno della globalizzazione voi direte quanto da lontano parte in realtà è necessario secondo me fare questo tipo di riflessione e il rapporto che la globalizzazione ha rispetto alla mobilità nel senso che globalizzazione e mobilità sono due concetti che si sono riaffermati ma soprattutto in epoca postmoderna negli ultimi dieci anni diciamo sono stati estremamente attenzionati perché l'attuale assetto economico globale noi lo sappiamo è sempre più caratterizzato in realtà dalla necessità di confini nazionali forti perché vi porto a questo perché nonostante il grado di interconnessione interdipendenza che c'è nel mondo e quindi la mobilità umana e quindi lo spostamento è un effetto di questa interdipendenza uno degli effetti che noi abbiamo è quello che in realtà i confini nazionali sono andati fortificandosi sempre di più e non è un paradosso in realtà se ci pensiamo e alcuni autori tra l'altro si sono soffermati secondo me io ve lo consiglio visto che questo rientra questo seminario all'interno di un percorso di formazione e vi consiglio questa questa lettura di Glick Schiller lei è una studiosa tedesca molto brava e c'è tutto un filone di border studies che ha proprio parlato di container model society perché ve ne parlo perché secondo me è estremamente interessante nel senso che proprio per andare a giustificare questa risposta a un mercato al mercato globale parliamo di lavoro non possiamo non parlare di mercato globale a prescindere poi dall'effetto che ha sul territorio nazionale ci arriviamo dopo a quello ok quello che è interessante è che in questo container model society le società le società vengono delimitate nuovamente alla luce dei fenomeni della globalizzazione a livello nazionale e si è andata a identificare un po' quest'idea di una costruzione di un'unità naturale di analisi lo Stato ok e che ha prodotto queste nuove questa società che è diciamo da un punto di vista estremamente delimitata dal punto di vista della cultura della politica nazionale di un'economia che si contrappone all'economia globale e anche di gruppi sociali delimitati quindi sono società che per resistere al fenomeno globale si costruiscono in questo modo sistemico di chiusura e di contenimento noi non possiamo non pensare a questo se vogliamo pensare a come viene utilizzato lo strumento del permesso di soggiorno normativa sul lavoro in Italia dobbiamo avere questa cosa in mente quindi in questo processo sistemico di chiusura e di contenimento che ovviamente ha un impatto su cosa definiamo cioè quali sono le nuove definizioni della cittadinanza quali sono le nuove definizioni di territorio quali sono le nuove definizioni di popolo e di sovranità quindi di potere che viene esercitato lo Stato nazionale in realtà entra in conflitto completamente nella sua prospettiva con quella che è la prospettiva del mercato globale noi stiamo vivendo un periodo ok che è di conflitto enorme tra lo Stato e il sistema del mercato globale e quindi non possiamo pensare che questo non abbia un impatto quando parliamo di lavoro a livello anche nazionale ok e quindi questa dicotomia tra stati nazionali e nuove e queste nuove forme diciamo di contenimento della società che vengono costruite per riuscire a dare un nuovo ruolo in qualche modo allo Stato in realtà hanno portato lo Stato ad avere una forte legittimazione sui regimi di mobilità a livello mondiale senza che lo Stato forse i stati nazionali non ne fossero veramente consapevoli per riuscire a oppormi a quello che sta succedendo io Stato per continuare a esistere all'interno di un'unità e di una naturalità che sia politica culturale spaziale vado cosa vado a fare vado a creare delle forme di contrappeso per andare a limitare la mobilità all'interno del mio territorio ok quindi se noi andiamo a ragionare su la necessità dello Stato di limitare la mobilità e quindi la presenza di persone all'interno del proprio territorio il passaggio al fatto che per fare questo gli stati utilizzino specifici strumenti normativi a quel punto non ci stupisce più cioè lo Stato usa il diritto per andare a legittimare un bisogno di esistere in un contesto globale che lo mette in difficoltà quindi questo cosa a cosa ci porta alla riflessione successiva qua vi cito il professor Mezzadra il professor di Bologna che da anni ragiona sui concetti di confine che lui prende questo ragionamento e lo diciamo in qualche modo lo raffina un pochino e parla proprio di modelli di inclusione differenziale cosa intende per modello di inclusione differenziale questo cosa vuol dire che a un soggetto viene dato un titolo uno status giuridico un titolo di soggiorno ok e a seconda del tipo di status giuridico quindi di titolo che ha per stare nel territorio ok questo soggetto sarà avrà la possibilità di stare in modo certo o incerto all'interno di quel territorio ok quindi cosa vuol dire vuol dire che se noi abbiamo una certezza di status abbiamo una possibilità più alta di avere un percorso di integrazione di successo se abbiamo uno status più incerto le nostre possibilità diminuiscono in modo esponenziale quindi lo strumento che viene utilizzato giuridico e normativo è fondamentale ma ripeto la motivazione politica che ci sta dietro è di tipo altro molto poco spesso in realtà che fare effettivamente su che modello di integrazione vogliamo dal mio punto di vista quindi per farvi per fare per entrare un pochino più nel concreto rapidamente io vorrei partire da appunto l'elemento come i permessi di soggiorno che consentono l'attività normativa l'attività lavorativa non voglio entrare nel merito delle varie tipologie di permesso voglio semplicemente ragionare con voi su come vengono utilizzate proprio per creare o non creare certezza ok dello stabilizzarsi di una persona all'interno di un territorio allora a parte le forme classiche di permesso di soggiorno per lavoro subordinato autonomo che sono state già menzionate pensiamo ad esempio allo status alla protezione internazionale che sia asilo politico sia professione sussidiaria allora noi sappiamo che in teoria dopo 60 giorni dalla formalizzazione della domanda il soggetto ha diritto con quel permesso a quel punto può lavorare bene ma cosa succede? succede che ci sono poi c'è poi la risposta dell'amministrazione dello Stato nel territorio alla possibilità effettiva che questa che quel titolo effettivamente porti alla possibilità per la persona di avere un lavoro questo cosa vuol dire da una parte ci sono le prezze legittime delle questure quindi sì c'è una formalizzazione di una domanda di asilo ma il momento dell'accertamento che poi consente effettivamente la possibilità di iniziare un percorso di ricerca lavoro avviene in un momento completamente diverso questo a modo la disapplicazione di quello strumento che prevede quel tipo di diritto in realtà è una politica che viene portata avanti dallo Stato per cercare in qualche modo di contenere quella possibilità ok perché qua stiamo parlando di richiedenti asilo sono richiedenti o nel senso per i 60 giorni non sappiamo se quelle persone effettivamente avranno diritto di stare nel nostro territorio non lo sappiamo ancora quindi nel momento della richiesta asilo ne creiamo delle situazioni per cui nel dubbio allunghiamo i tempi questa è una prassi illegittima ma è una prassi che ha un'incidenza sulla possibilità di trovare lavoro e sulla possibilità di stare in modo certo all'interno di un territorio ok quindi questo è un esempio ad esempio pensiamo all'utilizzo che è stato fatto in modo strumentale dello stesso tipo di permesso come richiedenti asilo separandolo da quello che veniva definito non sappiamo chi l'abbia definito così il permesso dublino le questure a un certo punto ha iniziato a dare questi permessi per richiedenti asilo che erano in attesa di dublino che sembravano diversi da quelli dei richiedenti asilo in realtà sappiamo perfettamente che ha lo stesso tipo di permesso ok semplicemente una persona è sottoposta a procedura a dublino l'altra no ok ma non è che è un tipo di permesso di per sé diverso scrivendo permesso di soggiorno per motivi dublino per dublino in realtà un sacco di richiedenti asilo sono stati esclusi completamente dalla possibilità di accedere al mercato del lavoro perché la questura metteva la questura e sappiamo perfettamente che i questori hanno delle indicazioni comunque non è che il singolo no ci sono delle indicazioni dietro cioè quello che voglio su cui voglio ragionare con voi è l'utilizzo dello strumento dal punto di vista politico no quindi questo è un altro esempio un altro esempio secondo me è veramente ovviamente interessante è la nuova la novellata protezione speciale che ovviamente sappiamo perfettamente che rinnovata non può più essere convertita permesso di soggiorno per motivi di lavoro e la cosa è molto divertente che uno dei motivi per cui viene data più frequentemente adesso è perché per integrazione lavorativa per integrazione del territorio che passa anche per integrazione lavorativa quindi nel senso è uno strumento che viene dato se sei integrato se sei integrato lavorativamente articolo 5 del TUI ma in realtà non viene rinnovato e non può essere cioè non può essere convertito in permesso di soggiorno di lavoro allora anche questa è una così una casualità o c'è comunque una volontà dietro di usare uno strumento in un determinato modo questa è una domanda che vi pongo se vogliamo chiederci cos'è integrazione e qual è di nuovo l'architettura della costruzione dell'integrazione no e questi sono due esempi un altro esempio interessante che non consentono un soggimento di attività lavorativa a posto ma molto spesso i permessi di giorno per tirocinio formativo e anche qua possiamo aprirci quindi vuol dire io metto una pezza do la possibilità a una persona di stare qui per un periodo ma in realtà non gli do la possibilità che il permesso venga convertito no ok quindi tutto questo per dire che gli strumenti normativi che vengono utilizzati da uno Stato contribuiscono a costruire un modello di società che quello Stato vuole portare avanti ok quindi c'è secondo me lo Stato non è assente secondo me nel processo di integrazione secondo me lo Stato è estremamente presente in realtà in un modo diverso da quello che noi ci aspettiamo però ok un secondo una seconda riflessione che volevo fare su con voi passando proprio da appunto da poi sul territorio quindi non più perché è stato giustamente detto prima di me cioè l'integrazione è delegata alle regioni in realtà qual è l'approccio no place based si chiama rispetto all'integrazione o comunque all'interazione tra i soggetti e gli attori lo spazio e le dinamiche e le relazioni di potere all'interno di un territorio che è locale allora queste interazioni che sono molteplici tra attori tra soggetti e istituzioni e la relazione appunto che è territorio e la relazione che intercorre vengono definiti da Tarius relazioni circolari cosa vuol dire che ogni ogni tipo di relazione il tipo di interazione che hanno questo tipo di relazioni crea delle territorialità diverse cosa vuol dire creare delle territorialità diverse vuol dire che in base a come c'è questa interazione che quindi dipende dalla normativa regionale dipende dalla normativa in tema di sussidi di accesso effettivamente ai servizi quindi in base a questo tipo di relazioni che si creano che sono determinate da quegli strumenti che sono normativi ma sono conseguenza di decisioni politiche si creano territorialità sempre diverse ed è per questo che noi parliamo anche come è stato detto prima di me di integrazioni differenziate a livello territoriale perché non c'è una legge quadro ma non è soltanto una questione che non c'è una legge quadro si creano delle territorialità diverse perché l'interazione è inevitabilmente diversa perché poi il passaggio successivo è che ogni territorio ha delle specificità in realtà nel senso che un'integrazione in un territorio come il Trentino non può essere la stessa un territorio come la Sicilia o come il Veneto o come il Lazio non può esserlo non può perché in realtà anche le esigenze sono diverse anche dal punto di vista della nella presenza di lavoratori nel territorio sto cercando di farmi mettere un po' in discussione tutta una serie di cose poi mi dite voi se per voi hanno senso perché a me piace poi ragionare insieme sulle cose quindi questo cosa vuol dire che ci sono delle politiche molto lasche a livello nazionale che possono essere appunto le istituzioni dei centri per l'impiego gli assegni per il lavoro l'accompagnamento al lavoro che però in realtà hanno a livello territoriale e poi delle forme diverse sia per quello che veniva detto perché non c'è una legge quadro ma anche perché in realtà si interagisce in modo diverso territori diversi interagiscono in modo diverso ok quindi place base perché come come tipo di approccio ok allora questo a me interessa perché perché in realtà allora cosa cosa diventa rilevante diventa rilevante come vengono costruite a livello territoriale le reti formali e informali che in realtà sono anche istituzionali nel senso che le reti dei servizi poi vanno a compensare il terzo settore sicuramente ha un ruolo come è stato detto fondamentale ma in realtà è la rete che a me interessa cioè è la relazione perché se parliamo di interazione di integrazione non possiamo non pensare a come si formano le reti istituzionali che la favoriscono e secondo me non è semplicemente una questione di presenza con presenza di strumenti di sussidi è proprio la creazione di una rete di relazione sulla quale in realtà non si investe non c'è un investimento sulle reti cosa vuol dire investire in una rete quando si parla di reti sociali la gente dice sì vabbè nel senso non c'è non c'è un approccio sistemico al concetto di costruzione di rete istituzionale e sociale poi un altro elemento secondo me che rileva se vogliamo parlare di integrazione quindi abbiamo visto l'aspetto normativo l'aspetto di contesto l'aspetto normativo l'aspetto dell'interazione relazionale e ovviamente come veniva detto anche l'aspetto della nazionalità di provenienza quindi territorio d'arrivo da una parte ma nazionalità di provenienza all'altro uno perché come veniva detto alcune nazionalità si trovano a fare determinati lavori per cose che insomma ora non ripeto perché sono già state dette ma dall'altra anche perché di nuovo lo strumento giuridico e lo strumento normativo viene utilizzato come strumento di filtro della nazionalità nel senso se viene inserito dal punto di vista normativo a livello di ordinamento la procedura accelerata in frontiera sulla base della provenienza da paese sicuro o non sicuro e quindi si va a erodere a parte che si va a erodere il diritto di asilo ma si vanno anche in qualche modo a costruire categorie di nazionalità inevitabilmente la costruzione di categorie di nazionalità avrà anche un impatto su che nazionalità poi sono presenti in un territorio quindi non è una casualità che certe nazionalità facciano una certa tipologia di lavoro anche là c'è uno strumento a monte che porta alla costruzione di questo fenomeno a livello territoriale ok quindi questo è un altro aspetto e l'ultimo aspetto secondo me su quale ragionare è quello delle misure accompagnatorie aggiuntive che sono quindi la casa il trasporto che non viene quasi mai considerato e ovviamente della lingua perché dico la casa perché è vero che c'è un problema legato alla casa ma in realtà molto spesso non si ragiona sul rapporto che c'è tra il lavoro e la casa nel senso che per come è stato detto a livello territoriale si fanno molte sperimentazioni tramite i progetti tramite i fami tramite i progetti regionali molti di questi progetti in realtà adesso più che parlare di lavoro o parlare di casa almeno nelle regioni tipo io conosco ovviamente più il Veneto la Lombardia stanno cercando proprio di fare una costruzione di appunto misure accompagnatorie aggiuntive all'integrazione in cui casa e lavoro vengono messi sullo stesso piano non si parla di casa non si parla di lavoro di casa e lavoro insieme quindi cercare degli strumenti per cui alla luce di una domanda e un matching la domanda e offerta si cerca di coinvolgere il datore del lavoro perché abbia anche la possibilità di dare una casa un alloggio e viceversa quindi in realtà questo per dire cosa per dire che se non approcciarsi in modo settoriale secondo me è una questione come l'integrazione anche se oggi parliamo di lavoro in realtà non è più sufficiente se vogliamo veramente riflettere su come costruirla questa integrazione che poi tra l'altro non chiamerei più integrazione ma possiamo aprire un dibattito su che termini usare perché ad esempio la chiamerei in altri modi è integrazione è interazione ci sono tanti modi per definirla tutto questo e poi concludo per cui se vogliamo parlare di lavoro se è integrazione o meno allora forse a me verrebbe da dire che da una parte è dal punto di vista del lavoratore il lavoro è un elemento necessario per la permanenza sul territorio più che integrazione e dal punto di vista invece del datore di lavoro è un modo per essere più competitivi sul mercato globale perché abbiamo bisogno di più mano d'opera perché lo Stato è schiacciato in questa economia globale che non sa veramente gestire quindi integrazione di chi io vi lascerei aperto la riflessione su guardare a questo tema sulla base della prospettiva dei singoli soggetti perché secondo me ci può dare dei suggerimenti delle suggestioni importanti per cercare di capire come superare un po' la situazione di un passo secondo me nella quale siamo finiti quando parliamo di questo tema vi ringrazio quante cose allora provo innanzitutto a raccontarvi da dove parto con questo breve racconto e in realtà prendo a prestito tante cose che hanno detto i relatori prima di me io di lavoro faccio l'operatrice sociale quindi lavoro all'interno del progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati in Trentino il mio lavoro quotidiano consiste nell'accompagnare le persone che entrano in progetto non tutte entrano quindi quelle che entrano in progetto in un tempo definito da dei requisiti precisi ma indefinito perché appunto legati per esempio i requisiti a un permesso di soggiorno che non si sa esattamente quando se come arriverà in un percorso di conoscenze del territorio acquisizione di autonomie spesso legate alla comprensione della lingua in parte della cultura ma spesso della lingua della burocrazia di un contesto culturale sistemico organizzativo che non è diciamo già in loro possesso quindi nella quotidianità io i colleghi e le colleghe accompagniamo persone quindi osserviamo un po' lo svolgersi della vita delle persone durante questi anni alle volte percorsi più brevi alle volte dei percorsi molto lunghi sul nostro territorio e questo solo per farvi capire insomma non ho dati alla mano ma ho storie di persone che posso raccontare condividere è stato super interessante ascoltare il relatore e la relatrice per me perché ho trovato conferma di tante cose questa mattina appunto discutevamo in equip nel preparare questo questo breve racconto e quindi ripartirei da alcune cose che hanno detto loro per dirvi che cosa noi abbiamo visto a proposito del modello di segregazione occupazionale ecco stamattina la prima domanda che ci siamo fatti è ok ma se per integrazione che siamo d'accordo sarebbe una parola da problematizzare eccetera intendiamo quel quel movimento di relazioni che porta diciamo a un matching fra lingue culture modelli e vite diverse ok le persone con cui noi lavoriamo dove incontrano con chi hanno relazioni dove e se si dà questo matching e ci siamo proprio risposti ok se parliamo di lavoro le persone con cui noi lavoriamo lavorano nel contesto che è stato perfettamente descritto prima quindi schiacciati in quel in quel tipo di lavori precari poco pagati poco riconosciuto sporchi squalificati e squalificanti spesso anche per il non riconoscimento delle competenze di origine e con chi si relazionano con altri stranieri con altre comunità straniere raramente con altri italiani italiane quindi a partire da questo ci siamo chiesti ok forse allora il binomio e l'affiancamento del lavoro a integrazione ma non è detto potrebbe esserlo a determinate condizioni ma spesso non lo è nella pratica quindi ecco il primo racconto che vogliamo portarvi è di persone che quando trovano lavoro trovano lavoro a fianco di altri lavoratori e lavoratrici straniere quindi noi crediamo che la conoscenza reciproca e quindi l'imperare insieme a vivere bene su un territorio sia una ricchezza per le persone che arrivano sui nostri territori ma ma anche tantissimo per la per la nostra comunità che sul territorio c'è già quindi ecco noi ci perdiamo in qualche modo questi spazi non ci siamo in quegli spazi quindi questo è una prima cosa che mi ero un po' appuntata sentendo sentendo le cose che venivano portate poi ecco i tre i tre le tre osservate i tre elementi portati quando si parla di integrazione normativamente assente concettualmente fra intesa operativamente disattesa questa è un'altra cosa che noi vediamo nella vita quotidiana delle persone e spesso ce lo diciamo non esistono azioni pensate dalla dalla politica dalle comunità e non stiamo parlando solo del del sistema stato non stiamo parlando solo delle regioni delle province anche spesso dei comuni con alcuni invece esempi magari virtuosi nel piccolo però non non c'è un'azione premeditata una programmazione una progettazione dell'istituzione nell'ottica di quello che il professore Sciolo ci ha parlato prima venendo a mancare questa funzione e noi vediamo appunto alcuni aiuti sulla casa delegati spesso questo non lo ripeto semplicemente ecco per chi magari ha meno abitudine a stare vicino a persone straniere vi confermo è proprio proprio così invece non ci sono non c'è quell'investimento a far nascere relazioni fra le persone dal basso proprio perché è lì che nasce l'incontro la relazione l'interazione l'integrazione come vogliamo poi chiamarla non c'è investimento su questo ce n'è poco in generale per quanto insomma noi noi pensiamo nel senso che per costruire comunità ci vogliono investimenti importanti i progetti non sono investimenti importanti sono sperimentazioni sono esercizi ma non sono appunto interventi di lungo di ampio respiro e di di un lungo tempo che permette poi il cambiamento delle società se noi non investiamo in questo diciamo non stiamo investendo sul futuro cioè la domanda che sempre ci deve accompagnare è se questo succede oggi a cosa ci sta portando domani non solo la domanda ciò che succede oggi è un po' il risultato di quello che abbiamo fatto nel passato ma renderci conto che quello che facciamo oggi determinerà esattamente quello che sarà nel futuro quindi tutto questo che i relatori priminari hanno raccontato sta in qualche modo delineando la comunità la società e le persone che stanno nel nostro territorio oggi ma anche domani voi sapete che nel progetto di accoglienza dei richiedenti asilo in Trentino ci sono stati cambiamenti importanti negli ultimi anni quindi nel 2018 con nuove decisioni della giunta non si è più investito sull'accoglienza diffusa quindi la possibilità di accogliere richienti asilo rifugiati non ancora rifugiati soprattutto richienti asilo quindi all'inizio del loro percorso di richiesta asilo in zone periferiche paesi comuni che non siano solo i due grossi comuni del Trentino in appartamenti con strutture piccole e invece si è investito sulle grandi strutture quindi insomma a Trento abbiamo Fersina Residenza Brennero Vela con strutture molto grandi ecco le relazioni erano possibili in quel tempo quando si parlava di piccoli inserimento ad oggi sono quasi impossibili sulle grandi strutture c'è un grossissimo lavorio di operatori operatrici volontari ma non è sufficiente quando invece si investiva e all'interno del progetto d'accoglienza c'era un'area di comunità che era delegata a creare terreno fertile per relazioni i risultati poi si sono visti noi abbiamo persone che sono arrivate nel 2014 15 16 che ad oggi hanno una qualità di vita fatta delle relazioni quindi dell'incontro fatta dell'integrazione interazione con la comunità locale che è nata proprio da quelle prime occasioni di conoscenza reciproca stamattina portavamo gli esempi il mio collega ha lavorato a Lavarone Lavarone l'accoglienza è stata data bruciando la porta d'ingresso della struttura che avrebbe accolto donne nigeriane a Valle San Felice io ero presente nella prima riunione con la comunità sono state tirate delle sedie perché i locali non volevano accogliere i clienti asilo e a distanza di due anni invece la situazione era completamente ribaltata con comunità intere che si muovevano nella relazione con queste persone arrivate da poco tempo quell'investimento oggi si può registrare nelle persone che sono arrivate in quel tempo quell'investimento che oggi non c'è più provocherà chiaramente dei risultati che vedremo nei prossimi anni che non saranno di integrazione di relazione di comunità aperte di persone che si conoscono questo insomma è una cosa davvero molto importante anche per dare un po' l'idea che al di là della questione norme sono completamente d'accordo con quello che portava la relatrice per di me c'è una possibilità di azione locale determinata anche da scelte politiche locali che si gioca fra di noi ecco so come dirlo diversamente ma ha a che fare con anche quello che noi portiamo e quello che noi chiediamo all'interno della nostra della nostra comunità l'altra cosa interessante che volevo riprenderla anche perché ne abbiamo parlato stamattina è la questione casa lavoro la questione della casa è molto una questione di rimente adesso non ci sono case non c'è case non ci sono case per tutti in generale per tanti gruppi settori diversi lo straniero la straniera in più ha un elemento di discriminazione nei suoi confronti che peggiora ancora la situazione ci sono però appunto confermo nella pratica in diverse zone del trentino alcuni datori di lavoro che si hanno cominciato ad offrire dei percorsi lavorativi offrendo anche la casa quindi siccome noi seguiamo persone che hanno avuto di queste occasioni qualche volta opportunità alcune volte un po' meno opportunità di avere lavoro e casa ecco quello che vi portiamo a questo è un binomio interessante perché spesso risolve la questione del non trovo lavoro riesco a spostarmi in un territorio più periferico dove non avrei trovato casa e si la trovo perché è il datore di lavoro che veicola questa possibilità dall'altra stiamo anche riscontrando situazioni per cui il lavoratore soprattutto il lavoratore al maschile per quanto riguarda questo tipo di esperienza per lo meno con le persone che seguiamo si trova inserito in contesti di convivenze al maschile spesso e con pochissime occasioni di interazione di costruzione di relazioni con la comunità locale con le persone che vivono in quello stesso contesto nel senso che si c'è la casa ma a parte qualche puntatina vicino a un luogo di wifi piuttosto che ai giardini perché la vita fuori è più bella quando in casa si sa stretti c'è poc'altro quindi non è detto che anche il binomio lavoro casa e zona più piccola periferica si traduca in integrazione interazione con la comunità se non vengono un'altra volta investiti pensieri risorse un progetto diverso questo insomma siccome si sta molto ricercando per risolvere la questione casa attenzione però c'è anche un rischio correlato rispetto a questo oltre chiaramente al fatto che doppiamente se il legare la permanenza legale di una persona sul territorio è vincolata al lavoro perché dal lavoro diventa il permesso di soggiorno se a questo aggiungiamo che il datore di lavoro ci dà anche casa che non è una risposta banale a bisogni fondamentali ecco la dipendenza da quella situazione che quando è positiva benone ma quando è negativa diventa doppiamente problematica non vorrei rubare tanto tempo perché poi la casa raccontare sarebbero tante però un'ultima cosa ci piaceva portare che è questa noi ci siamo noi lavoriamo con straniere persone straniere che sono arrivate relativamente da poco sul territorio e quindi ogni tanto ci diciamo ok ci vuole anche un tempo storico perché le cose succedano se poi le cose non le pensiamo possono anche succedere male ma insomma ci vuole un tempo perché le cose succedono quindi ci siamo chiesti forse però la nostra esperienza con persone di prima migrazione di prima generazione di migrazione magari si risolve si migliora nel tempo con la seconda con con la formazione della famiglia per chi arriva qui singolo o singola per chi riesce a fare ricongiungimenti familiari e quindi insomma forse dobbiamo solo aspettare la seconda la terza generazione però negli ultimi anni abbiamo seguito anche tante famiglie sul territorio di richienti asilo poi rifugiati rifugiati che sono ancora dentro progetto in una situazione di occupazione perché non c'è casa fuori e quindi abbiamo cominciato a seguire tanti ragazzi ragazze inserite nel mondo della scuola che sono hanno fatto le medie sono arrivati alle superiori e adesso stanno cominciando a finire le superiori che gli anni passano e con molta tristezza ci siamo gli studi lo dicono ma insomma ci siamo resi conto proprio nella pratica quotidiana e nella vita quotidiana dei ragazzi nelle parole che loro riportano di ascoltare a scuola nei percorsi che gli vengono proposti che innanzitutto vengono penalizzati dalla forte richiesta della scuola italiana per come pensata di avere una presenza forte della famiglia per quanto riguarda l'accompagnamento all'apprendimento dei figli famiglie che sono in difficoltà perché magari non conoscono bene la lingua e per tanti altri motivi e spesso e volentieri vengono indirezzate a fronte delle prime difficoltà o di difficoltà non così gravi a percorsi scolastici di formazione professionale tecnica quando ci arriviamo a professionale in modo particolare per cui la domanda che ci poniamo fortemente è è solo questione di aspettare un tempo storico perché i primi arrivati sono sempre quelli che fanno più fatica oppure in realtà se non lavoriamo sulle condizioni di tante altre cose rischiamo semplicemente di diciamo di mettere a sistema dei dei meccanismi collaudati per cui non arriveremo mai a quel tipo di relazione che parte dal presupposto di di pari 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 opportunità nell'avere pari diritti e poi si traduce in tutto il resto questa è una forte domanda che ci ci poniamo ultima cosa riguardo ai tanti luoghi in cui si può immaginare o i luoghi in cui c'è una presenza pubblica esterna perché non possiamo andare ad agire nelle vite singole di ogni persona però ci sono dei luoghi privilegiati dove anche le istituzioni anche la comunità diciamo ha una presenza che tocca in qualche modo la vita la vita di tutti di tutte lavoro scuola sport ecco questi luoghi meno meno ci investiamo meno li pensiamo in termini proprio di prenderci il tempo di riflettere rispetto a quello che stiamo facendo e rispetto a quali sono le conseguenze a cui ci portano le azioni che stiamo pensando programmando mettendo in atto oggi meno facciamo questo esercizio e meno questi diventano luoghi di integrazione e più diventano luoghi di esclusione quindi i luoghi privilegiati dove potremmo pensare che l'integrazione si dà diventano luoghi di esclusione se non vengono progettati gli interventi a lungo termine sempre ecco queste sono le grosse domande che ci accompagnano noi siamo molto grati di fare il lavoro che facciamo perché ci dà la possibilità di vedere queste cose alcune volte sono meno evidenti alcune volte proprio arrivano super evidenti e come dire sono i campanelli di allarme della nostra comunità perché dalla nostra posizione di donna non più così giovane con famiglia bianca nata qui con un certo grado di istruzione io queste cose non le vedrei se non lavorassi a contatto con le persone con cui oggi lavoro e mi rendo conto quando racconto alcuni episodi di vita quotidiana che tante altre persone non se le immagino quindi come dire queste situazioni invece sono il campanello d'allarme rispetto a una società che che non va bene perché quando cresce la disuguaglianza cresce l'infelicità quando io parlo di integrazione di interazione mi piacerebbe portare anche il senso più di realizzazione di una persona dello stare bene di una persona su un territorio se io non produco benessere in questo caso la società che vado a costruire sarà una società peggiore per tutti non solo per alcune persone per cui il fatto di poterlo vedere da vicino credo che sia molto importante poi avere spazi come questo dove raccontarlo ancora più importante scusate sono un po' lunga ma grazie grazie e grazie davvero a tutti e tre e questo appunto è lo spazio dove proviamo ad abbattere un po' la quarta parete quindi è aperto al dibattito di conseguenza sia tra tra di voi naturalmente anche tra chi ci segue da casa e il pubblico qui presente quindi mi fate un cenno e mi avvicino grazie rompo il ghiaccio e ho una domanda per Di Sciullo e che ringrazio come ringrazio le nostre relatrici per il suo intervento e la domanda è questa condivido sì io ho la colonna davanti ma tanto è lo stesso l'importante che lei senta la voce condivido le sue riflessioni sull'assenza di un quadro normativo e poi sul fraintendimento e la difficoltà a rendere operative passando dalle buone prassi alle policy le azioni di integrazione che sono comunque presenti come anche Silvia ci testimoniava nel nostro paese e volevo chiederle ci sono due strumenti di cui penso si parli pochissimo però esistono almeno sulla carta e uno è l'action plan della comunità dell'unione europea sull'integrazione e l'inclusione per il quinquennio 2021-2027 che è già il secondo se non forse il terzo action plan sull'integrazione al cui interno ci sono naturalmente con quelle modalità descrittive che l'unione europea ci ha abituato ormai a riconoscere a volte sembrano un libro dei sogni ma bisogna pur riconoscere che questo libro dei sogni viene scritto e quinquennalmente viene approvato dalla commissione e dalle istituzioni europee e viene messa nelle mani degli stati l'Italia aveva avuto l'atto di reciprocenza nel 2017 col primo piano nazionale di integrazione per richiedenti asilo e titolare di protezione e questo è molto importante perché documenta come ci diceva forse prima Giordano documenta il fatto che la politica può dare orientamento poi a ciò che sarà l'azione e in quel caso la politica aveva dato un segnale chiaro io ricordo con particolare interesse perché l'università di Trento ha dal 2015 un progetto di inserimento nel percorso di studio universitario di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 5 5 studenti ogni anno 5 borse di studio ogni anno ma volutamente abbiamo mantenuto anche col cambio di luna il riferimento anche ai richiedenti asilo e non solo ai titolari proprio per scardinare quella logica della temporaneità della permanenza così dubbia i richiedenti asilo vivono una sorta di limbo beh noi anche ai richiedenti asilo vogliamo dare la possibilità di proseguire i loro studi universitari ma questo è un inciso curiosamente però il piano nazionale per l'integrazione 2022 2024 che non si riesce a trovare da nessuna parte pubblicato se uno fa disperate ricerche su google non riesce ad arrivarci deve entrare attraverso conoscenze persone che hanno fatto parte del tavolo allora questo nuovo piano nazionale è però riferito solo ai titolari di protezione internazionale ed è un pezzetto del discorso relativo all'integrazione perché noi ormai siamo così schiacciati sulla logica degli arrivi disperati da ignorare che abbiamo una popolazione straniera ormai residente da lungo tempo sul nostro territorio e spesso transitata nella dimensione della cittadinanza però la domanda è questa questi documenti questi strumenti che esistono sono parziali zoppicanti tutto quello che possiamo dire hanno un valore che possa essere rilanciato secondo una logica bottom bottom up perché sul top down devo dire che oggi non abbiamo nessun tipo di speranza ed è una cosa cieca perché condivido appieno quel che dice Silvia dovremmo ragionare solo in termini di egoismo sociale ciò che facciamo oggi determinerà ciò che accadrà alla nostra società domani quindi semplicemente perché siamo egoisti e tendiamo alla conservazione della specie ci dovremmo interrogare sulla necessità di modificare le politiche grazie grazie a lei di questa domanda direi per certi versi anche un po' difficile io non credo che questi documenti trovino delle condizioni favorevoli perché possano dare frutti apprezzabili purtroppo perché per tutta una serie di motivi diciamo sono motivi storici politici che durano da almeno 25 anni questa parte che hanno segnato la storia del nostro paese sui quali poi si sono innestate politiche molto più operative questi documenti programmatici messe in atto dall'Unione Europea a partire come dicevo soprattutto dal 2011 e perché di fatto la classe politica esprime al dispetto dei contenuti questi documenti programmatici un assoluto disimpegno nei processi di integrazione questo di fatto vanifica molto gli sforzi che vengono dal basso cerco un pochino di spiegarmi in modo tale che possiamo ragionare più sul concreto la storia dell'immigrazione in Italia dura 50 anni dal 73 spero che è stato il primo anno in cui noi abbiamo avuto un numero di stranieri che si sono fermati stabilmente nel paese più alto degli immigrati italiani all'estero l'anno di crisi l'anno crisi petrolifera dello shock dell'economia in ginocchio si è parlato per la prima volta di austerity e così via dal 73 fino al 2023 adesso siamo entrati nel 51 anno sono stati 50 anni che il nostro paese non ha mai riconvertito la sua situazione migratoria e è sempre rimasto in paese di migrazione noi possiamo dividere questo cinquantennio in due metà fondamentalmente uguali i primi 25 anni 73 98 98 è una data chiave perché è il paro della legge quadro dell'unico che è un riferimento e poi dal 99 fino ai giorni nostri secondo 25 anni nei primi 25 anni noi ci abbiamo messo appunto tanto tempo 25 anni appunto per capire che non eravamo che l'immigrazione non era un fenomeno congiunturale non era un fenomeno transitorio un fenomeno strutturale quindi dopo tanti tentativi legislativi che regolamentavano solo aspetti parziali di tutto il fenomeno devo dire lo più concentrati proprio sugli aspetti del lavoro finalmente avendo capito che l'immigrazione era un fenomeno che ci avrebbe riguardato per un lungo futuro abbiamo anche di compromessi di concertazione comunque partorito la prima e unica legge quadro sull'immigrazione che è l'attore testo nei secondi venticinque anni intanto era arrivata al governo la seconda repubblica gli anni novantaquattro e cinque le mani pulite della prima repubblica si affermano sullo scenario nazionale nuovi partiti diversi di questi partiti lo sappiamo ancora oggi in forte seguito elettorale hanno costruito la loro identità politica e anche le loro fortune elettorali quasi esclusivamente sulla paura degli immigrati perché nascevano in un periodo in cui appunto essendoci accorti dopo tanto tempo che eravamo diventati davvero un paese di reazione ecco la prima reazione che abbiamo avuto è di spaventare e questi partiti hanno soffiato sul fuoco rinforzando queste paure che sono incompensibili e diciamo direi quasi stintive inducendo altre paure del tutto costruite e sulla paura dello straniero sullo straniero inteso come una minaccia hanno poi visto che hanno fatto anche le loro fortune elettorali quindi sono andati molto spesso al governo in questo fondo venticinquennio hanno creato un clima politico e anche pubblico assolutamente avverso impaurito poi quindi anche rabbioso reattivo verso l'immigrazione l'immigrazione è diventato un terreno di caccia quanto è vero che dal 1998 al 2023 se noi scordiamo tutte le iniziative normative del nostro paese ci accorgiamo che tranne in un caso nel 2020 decreto lamorgese tutte le leggi sull'immigrazione per 25 anni sono state promosse da questi partiti dichiaratamente anti-immigrari quindi noi da un quarto di secolo che leghiamo le politiche migratorie a forze dichiaratamente anti-immigrari i governi si sono alternati e forze diciamo dichiaratamente anti-immigrari hanno peccato diciamo adesso faccio una piccola parafrasi ma insomma chi ha peccato per parole e opere è la parte politica ha persa per commissioni e chi ha fatto e chi ha rinunciato in partenza di fatto da 25 anni noi osserviamo delle politiche assolutamente coerenti che non hanno fatto altro che restringere tagliare comprimere e fare giri di vite sul testo unico il risultato è che dopo 25 anni le norme del testo unico così restrittive hanno di fatto reso proibitive a molti migranti non solo di entrare in Italia regolarmente ma anche di rimanerci regolarmente la prova è che dopo nove regolarizzazioni in 37 anni di leggi noi abbiamo ancora oggi un bacino di mezzo milione di immigrati irregolari che non riusciamo a riassorbire più perché perché le leggi riproducono irregolarità così se ne ho fatto tutto questo escursus ma mi serve per dire che diciamo è ovvio che in una situazione di questo genere c'è una refrattarietà delle classi politiche a svolgere un ruolo di garanzia nei confronti dei processi di integrazione in un clima politico decisamente avverso dove chi dovrebbe avere a cuore le ragioni dell'integrazione è intimidito e non fa nulla perché ha paura di perdere consenso politico chi invece ha cavalcato da un quarto di secolo questo tema costruendoci la propria fortuna politica e quindi va alla carica regolarmente dicendo quasi altro niente da offrire nel panorama politico questa situazione ha fatto sì che poi di fatto la classe politica e le istituzioni rimanessero bloccate in quello che è il loro ruolo ripeto nei processi di integrazione il ruolo dello Stato è quello di garantire le precondizioni necessarie perché i processi di integrazione prendano a vita ora anche l'Europa ha virato 180 gradi dicevo nel 2011 sono stati due eventi esplosivi da una parte l'uccisione politica di Gheddafi la Libia è entrata nel caos e ha dato è diventato diciamo il come dire il canale la crepa che si è aperta sul muro dei paesi diciamo qua del Mediterraneo dei paesi di Nord Africa attraverso il quale hanno sono convogliati i migranti per entrare in Europa attraverso l'Italia e poi nel 2011 è scoppiata la guerra in Siria anche che è ancora in corso quindi abbiamo avuto una doppio ultra pressione migratoria alle frontiere meridionali e alle frontiere orientali l'Europa si è spaventata come aveva fatto l'Italia e ha rinnegato nelle politiche più operative tutti quei principi che pure aveva sancito e che ancora continua a sancire documenti come election plan e così via cioè si è creata una specie di scissione schizofrenica in cui da una parte noi abbiamo documenti molto illuminati e molto avanzati che rettano le linee direttive ai paesi membri perché promuovano iniziative di integrazione ma dall'altra sia i governi che ultimamente le stesse istituzioni centrali dell'Unione Europea sono le prime a alimentare politiche che impediscono tutto questo noi pensiamo solo alle politiche di esternalizzazione delle frontiere pagate dall'Unione Europea è una politica che sul piano giuridico sul piano del diritto internazionale sul piano del diritto del mare sul piano dei diritti umani è assolutamente teleteria molto discutibile eppure viene finanziata dall'Unione Europea noi abbiamo preso soldi dall'Unione Europea per fare i nostri accordi con la Libia e non parliamo poi in Tunisia è stata proprio l'Unione Europea a fare l'accordo diciamo spinto dall'attuale nostro governo ma c'erano l'accordo è stato Libico Unione Europea scusate Tunisino e Unione Europea noi abbiamo pagato la Bosnia perché costruisca campi profughi per bloccare i flussi del 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 canale d'ingresso dei Balcani occidentali noi abbiamo pagato 9 miliardi e mezzo l'Unione Europea ha pagato 9 miliardi e mezzo le tranche la Turchia di Erdogan noi avevamo nel 1989 due muri in Europa oggi noi ne contiamo 19 di cui 16 interni in funzione anti-immigrari quindi lei capisce che in questo clima in questa situazione avere dei documenti programmatici ma avere contestualmente il disimpegno dello Stato delle politiche sia nazionali sia comunitarie per la effettiva integrazione dei migranti di fatto vanifica comunque come dicevo prima non riesce a fare entrare le buone prassi che dal basso arrivano nell'impianto normativo e questo ovviamente rende vane o quasi vane le azioni del terzo settore il terzo settore viene in questo senso utilizzato di classe politica come una specie di ammortizzatore sociale per l'eccessiva durezza delle norme che nessuna classe politica ha intenzione fino ad adesso di cambiare non vi sento no no era un momento di silenzio di riflessione ah ok no no io in realtà così giusto per così per 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 amore di discussione secondo me se posso in realtà non nel senso è stato fatto tutto un ragionamento su la le decisioni politiche come decisioni di politics più che di policy referendosi ai partiti che hanno portano avanti determinate posizioni alcuni elementi sono ovviamente innegabili però secondo me in realtà è una questione di stato come struttura e sistemico che va al di là anche di perché sto pensando a Minniti che ha la legge Minniti al decreto del 2015 che ha dato là a tutta una serie di riforme che sono note in modo conseguente che in realtà erano già nel canale di quello che era stata una riforma legislativa precedente appunto da parte di un partito che in realtà non dovrebbe avere avuto quelle stanze e che comunque ha fatto un memorandum d'accordo con la Libia nel senso quindi secondo me c'è questa distinzione tra politics e policy quando parliamo di politiche migratorie non è così cioè nel senso non è distinta ovvio che nella narrazione sembra perfettamente c'è chi fa peggio c'è chi fa meno peggio però senza entrare un po' in questo discorso che secondo me è un po' banale in realtà secondo me dobbiamo cercare di fare una riflessione così forse usciamo anche un certo tipo di dibattito per aprirne un altro su quali sono cioè effettivamente gli obiettivi che si pone lo Stato di autoconservazione che prescindono secondo me dai partiti sì sì scusa se posso intervenire sì sì non era mia intenzione no no era una riflessione a cui mi collegavo rispetto a quello che hai appena detto perché c'era stata una digressione insomma abbastanza importante su questo aspetto e invece io credo che sia veramente una questione di che idea si ha di come funziona uno Stato rispetto agli elementi che lo costituiscono che va forse al di là dei partiti politici certo certo no sono d'accordo ecco vorrei anche io non vorrei facilitare diciamo il mio intervento su questioni appunto di appartenenze politiche non è luogo e neanche era la mia intenzione solo per dire che di fatto noi registriamo per lunghissimo tempo per un quarto di secolo una omogeneità diciamo a dispetto dell'alternanza dei partiti al governo e possibili noi di fatto su questione delle politiche migratorie registriamo una specie di pensiero unico trasversale bipartisan per cui si registra una sostanziale omogeneità di posizione sui motivi per cui le classi politiche anche al di là delle loro appartenenze con questo questo si può spisire io qualche idea a proposito ce l'ho ma che magari però sono ecco volevo dire sono pienamente d'accordo nella mia testa ascoltandovi traducevo quello che raccontavate no diverso immaginavo dove ho visto le cose che avete raccontato negli occhi e sulla pelle delle persone con cui lavoriamo rispetto a quello che dicevo prima che quello che facciamo oggi avrà risultati domani ecco quello che succede alle persone nel movimento di partenza dai luoghi di origine all'arrivo sui nostri territori e quello che succede a queste persone all'inizio della presenza sui nostri territori sono cose così terribili quindi quel moltiplicarsi di muri di centri di accoglienza che sono a tutti gli effetti dei centri dei ghetti di detenzione non so come chiamarli ma insomma non hanno nulla a che fare con la dignità della persona tutti quei quei gruppi più o meno riconosciuti di persone che cacciano i migranti nei boschi di tutta la ex Jugoslavia tutte quelle isole da lesbo e se ne possono fare altri esempi che trattengono le persone in situazioni di limbo e via dicendo le persone che arrivano qui e dopo 5-6 anni non hanno ancora quella certezza di rimanere sul territorio perché prima era richiesta d'asilo poi il deniego poi il ricorso poi il covid e quindi i tribunali hanno due anni tre anni di ritardi tutto questo sta formando persone rotte rotte dentro e queste sono le persone che portiamo sui nostri territori queste sono le persone con cui noi vorremmo poi fare interazione e integrazione ma come dire come si fa sono persone che perché salta il permesso di soggiorno perché c'è l'ennesimo rinvio perché c'è quel vuoto burocratico fra la 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 questione dublino che non è risolta che non si capisce se è l'Italia se è la Spagna se è la Germania che deve riprendere in mano la situazione a sei mesi in cui non può fare la residenza non può lavorare non può una serie di cose queste sono le persone che arrivano da noi e dicono io mi uccido non ha più senso vivere così sono le persone che arrivano e e fanno una fatica immensa a costruire una relazione con noi operatori operatrici perché hanno avuto una prima esperienza del sistema un imprinting rispetto al nostro sistema che sono le botte che danno che danno le varie polizie di frontiera queste cose secondo me dobbiamo dircele perché poi quando queste persone arrivano sul territorio sono queste le persone che noi dovremmo accompagnare a a costruire cose buone nelle nostre comunità ma come si fa se si è così spezzati poi scusa ho visto una mano no ah ok no vi riportavo a un po' di concretezza rispetto a questo perché ogni tanto ragioniamo di cose molto lontane poi ci sono qualche foto che ci riporta le cose terribili però questa è la vita delle persone e non pensiamo che le cose più fisicamente dure siano poi quelle che segnano di più c'è anche questo il nostro sistema così come l'hanno perfettamente descritto nelle storture nel nei tempi vuoti nei tempi lunghi hanno un peso sulla psicologia della persona sul benessere sulla salute mentale delle persone che è pazzesco noi non facciamo altro che fare riunioni di rete sul territorio fra enti che si occupano di accoglienza dicendoci oddio ma è esploso il problema della salute mentale e io non ho dati alla mano non ho fatto ricerche questionari però l'impressione di alcuni fra di noi che hanno lavorato nel nei vari nelle varie emergenze sempre un'emergenza quindi dieci anni fa hanno lavorato con dei richienti asilo che venivano in maggior numero dall'Africa subsahariana e che oggi lavorano invece con richienti asilo che vengono per il maggior parte del numero da Pakistan Afghanistan e poi adesso Marocco Tunisia eccetera c'è una differenza sostanziale quando i le persone salvate in mare arrivavano in tredd non sto parlando quindi la nostra piccola esperienza che può essere non significativa poi messa a numeri a statistiche però quando queste persone arrivavano nei centri di prima accoglienza al campo di Marco qualche anno fa incontravano un come dire avevano avevano avuto una prima esperienza del sistema che li aveva salvati in mare sembra banale però c'era un meccanismo psicologico di riconoscenza nei confronti dell'Italia che li aveva salvati che metteva già le basi per un tipo di investimento sulle relazioni diverso oggi arrivano persone che da anni fanno i game sulla rotta balcanica che sono stati trattati male ovunque che sono anni che girano in queste rotte ed è tutto un altro lavoro c'è tutto un lavorio che è lunghissimo e i tempi del progetto non ci danno più i tempi necessari per recuperare questo tipo di relazioni con 6.000 euro di reddito annuale si è fuori dai progetti perché è considerato un reddito sufficiente per mantenersi in autonomia su un territorio 6.000 euro all'anno non abbiamo più il tempo e il lavoro si trova adesso si può anche non parlare una parola di italiano in qualche modo il lavoro non sto parlando del bel lavoro del buon lavoro però il lavoro si trova e con loro non abbiamo il tempo di ricostruire le relazioni quindi un'altra volta stiamo subiamo quello che succede prima dell'arrivo sui territori subiamo ciò che il sistema impone in termini di permessi di soggiorno che sono il vincolo perché una persona possa rimanere certamente su un territorio qui e a noi viene delegato il compito e questo si dico il terzo settore è affaticato di avere questo compito di cerotto di pezza per far mantenere a galla una situazione che se va avanti così insomma non è più facile mantenere mantenere una soglia minima di c'è molta stranchezza fra gli operatori e operatrici sociali schiacciati fra un sistema che insomma cerca nella pratica questo ed è chiaro al di là poi dei documenti che si scrivono e un bisogno e un malessere che aumenta ecco il nostro lavoro è schiacciato fra queste due cose ed è eticamente difficile starci dentro poi ecco questo si accompagna a una consapevolezza una presa di responsabilità rispetto al fatto che probabilmente siamo noi più vicini che vediamo queste situazioni che abbiamo il compito di perlomeno dirlo fin dove arriviamo chiaramente però ecco io dico sempre anche nelle scuole quando andiamo a raccontare un po' il lavoro che facciamo quando sentite che c'è stato un nuovo decreto una nuova cosa non pensate che siano cose lontane che succedono a Roma perché questo si traduce nella vita quotidiana dei vostri compagni di classe delle vostre compagnie di classe delle famiglie delle persone e via dicendo e questo fa male a tutti un'altra volta grazie non vedo gesti o altri spunti che arrivano se posso dire una cosa a proposito del bottom up mi faceva riferimento la signora o la nostra ascoltatrice non so chi sia insomma è una voce femminile è importante questa questa dinamica del bottom up però dovremmo capire che dovremmo rompere uno schema che ci è stato imposto dall'alto e che ci fa credere che sia una un contrasto ci sia una frattura che sia giustificato mantenere in vita un conflitto tra le classi più svantaggiate qui in Italia la domanda che dovremmo porci all'inizio è questo ma perché in 50 anni abbiamo diciamo così abbiamo avuto una classe politica che si è comportata diciamo in maniera piuttosto omogenea nei confronti dei migranti architettando diciamo un impianto normativo che rende oggettivamente difficile la loro vita nel paese e mettendoli in una situazione di progressivo detrimento di progressivo toglimento dei loro diritti quindi in una situazione più indifesa meno stellata e più inerme perché è successo questo perché lo si può vedere appunto anche al cambio dei governi perché c'è una linea comune sotterranea su questa secondo me i motivi sono legati alle nostre classi dirigenti noi abbiamo un paese che si trascina da decenni mali endemici mali endemici significa che sono nati qui da noi sono endemici non ce li hanno portati fuori quali sono questi mali endemici io ho 53 anni mi ricordo quando ero bambino a volte a volte il giornale parlavano i miei genitori lo ascoltavano seriamente io ero appena un bimbo mi sono rimane mi sono risuonano ancora nelle orecchie cose che ancora oggi stanno in piedi sono problemi atavici endemici che non sono stati mai risolti quali sono la disoccupazione la disoccupazione giovanile la malasanità la corruzione queste cose noi sono decenni che ce le trasciniamo senza risolverle quindi abbiamo avuto classi dirigenti che nel corso di decenni sono state incapaci di risolvere questi mali endemici non solo ma da almeno qualche decennio da almeno 15 anni non esageriamo da almeno 15 anni noi viviamo un inverno demografico pazzesco e nel 2023 probabilmente segneremo il quarto record negativo di nascite in Italia abbiamo avuto già tre record negativi uno dietro l'altro l'ultimo dato che si riferisce al 2022 parla di 4 milanascite totali io ricordo che all'epoca del baby boom negli anni 70 tra la fine degli anni 60 e inizi degli anni 70 era il cosiddetto baby boom in certi anni in quel periodo le nascite avevano superato addirittura un milione annui quindi stiamo a meno della metà abbiamo inanellato tre record negativi dall'unità d'Italia e stiamo per inanellare il quarto con tutta una serie di ripercussioni perché significa invecchiamento precoce della popolazione invecchiamento delle leve produttive dell'occupazione mancanza di leve di ricambio alla base occupazionale quindi pensionamento significa automaticamente perdita del posto di lavoro quindi restrizione dei posti disponibili invecchiamento dei lavoratori mancanza di fantasia diminuzione della produttività più bassa competitività più bassa inclinazione diciamo così all'innovazione non siamo più competitivi sui mercati internazionali per campo terreno contrazione dell'economia peso previdenziale alle stelle che il rapporto di dipendenza cioè il rapporto tra anziani in età pensione e giovani è mostruosamente sbilanciato e andrà mostruosamente sbilanciandosi verso gli anziani quindi una situazione catastrofica anche a livello sociale noi veniamo anche poi da tre crisi globali 2008 crisi sappiamo quella che era diventata come crisi finanziaria negli Stati Uniti poi è diventata crisi economica poi crisi passionale 2020 crisi pandemica gli esperti avevano detto che gli effetti di questa crisi pandemica sarebbero stati devastanti e paragonabili a un po' guerra e stavamo appena assaggiando questi effetti negativi scoppio della guerra tra Russia e Ucraina qui ci sono stati momenti abbastanza critici vi ricorderete che hanno riguardato l'innalzamento pazzesco dei costi delle materie prime le forniture dell'energia del grano e poi adesso ultimamente questa guerra che c'è in Palestina quindi noi siamo un paese che conserva da tanti anni problemi endemici sui quali si sono innestate tre crisi globali in meno di 25 anni che hanno minacciato l'economia che hanno reso difficile la convivenza sociale di fronte a classi che non riescono a gestire questo diciamo è conveniente a tutti i livelli avere una classe sociale come quella degli immigrati che privata di diritti in maniera sistematica l'impianto normativo che abbiamo diventa diciamo la classe sfiatatoio la classe di scarico di tutta la tensione sociale si è accumulata grazie a questo modazzo conviene alla classe politica perché perché la dinamica del capo espiatorio funziona da sempre funziona anche in questo caso tanto è vero che qual è stata la retorica di tutti questi anni di crisi che la colpa di queste disfunzioni di questi mali endemici che noi ci trasciniamo da anni prima ancora di diventare un paese di immigrazione di chi è colpa è colpa degli immigrati cosa dice la retorica manca il lavoro in Italia è colpa degli immigrati che torneranno c'è la mala sanità in Italia è colpa degli immigrati che portano le malattie c'è la corruzione in Italia colpa degli immigrati che campano spese dello Stato fanno i furbi non pagano le tasse cioè il capo espiatorio poi c'è una convenienza della classe media la classe media si è sempre più assottigliata grazie a queste crisi molti anche giovani sono transitati dalla classe media alle classi e quindi le classi medie si sono assottigliate ecco conviene alla classe media avere una categoria sociale a sfruttare come riesci a sfruttare togliendogli i diritti dall'imprenditore dal grande imprenditore fino a tutta la filiera delle imprese dei datori di lavoro e arrivando fino a famiglia della porta tanto ma è chiaro che se tu hai bisogno di mano d'opera e ce l'hai disponibile da parte di persone che oggi sono regolari domani sono irregolari hanno una situazione giuridica precaria e con tutte le disfunzioni che ho detto prima è chiaro che c'è buon gioco a sfruttare pagarla di meno a sottopagarla e così via dalla famiglia della porta accanta che cerca una semplice patanta alla grande impresa quindi mano d'opera massiva e poi fa comodo anche alle classi sociali più disagiate perché perché la rabbia sociale che monta monta e quindi la rivendicazione porto matto appunto delle classi sociali che soffrono maggiormente i morsi delle crisi ecco vengono dirottate dalle classi dirigenti sui loro vicini cioè su quelli che stanno nelle stesse condizioni di disagio ma che sono stranieri inducendo che cosa una lotta una guerra tra tutte è quello che il professor adesso mi sfugio un grande giurista italiano ha definito la torsione del conflitto sociale in cui consiste questa torsione del conflitto sociale che il conflitto sociale ha una direzionalità va dal basso cioè dalle classi più disagiate che soffrono la rivendicazione va verso l'altro verso chi detiene il potere che può cantare le cose visto che chi detiene il potere è inetto e però desidera conservare il suo potere come fa? lo storce cioè distorce questa vettorialità rimanda indietro questa rabbia e su chi la fa ricadere su le classi ugualmente disagiate quelli che vivono accanto nelle periferie ecco che sono gli stranieri e ti fanno vedere che il tuo disagio non dipende da me che ho il potere ma dipende da chi ti sta vicino perché ti toglie il lavoro bla 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 grazie guardo il tavolo se ci sono controstimoli se no dico semplicemente appunto colgo quest'ultima riflessione per fare anch'io buttare lì un sasso che però poi non troverà molte conseguenze oggi perché tra poco dobbiamo andare lasciare la sala per consentire a chi lavora per chiudere la facoltà di poterlo fare e il sasso che però lancio riguarda un po' questa riflessione perché l'aspetto magari non troppo meditato da parte nostra nel porre questa domanda ma che ho trovato estremamente interessante rispetto alle nostre riflessioni di questo pomeriggio è stato il riconnettere questa dimensione legata al lavoro come integrazione punto di domanda ad una dimensione di analisi critica rispetto a quelli che sono stati gli effetti inaspettati o aspettati veicolati o prodotti dalla globalizzazione da un certo tipo di interpretazione della globalizzazione perché questa torsione del conflitto sociale altro non è che la vittoria di quelli che dicevano di quelle che dicevano anzi che non ci sono alternative e che questa dimensione di mercato globale messo insieme alla questione legata ad un'altra forma di bottom up che è quello del terzo settore che è quello della coprogettazione però la che non abbiamo usato questa sera e che è un tema che forse dovremmo iniziare ad affrontare con un altro tipo di spinta riguarda in realtà quello che sono i border studies e allora riguarda in realtà quello che è il modello hard outside soft inside che come Unione Europea abbiamo costituito ma che affonda le proprie radici tanto nei processi di globalizzazione quanto nella vittoria neoliberista del conflitto sociale quanto probabilmente anche in tutto quello che è la dimensione come dire di funzionalizzazione di questi processi sociali e questa è una riflessione che mi sono appuntato mentre vi ascoltavo riguardava proprio il ruolo del terzo settore in questo senso perché quello che il terzo settore a cui che viene chiesto al terzo settore è sia di essere cerotto ma di essere cerotto facendo una cosa cioè occupandosi di attività di interesse generale che è un tema che a me sembra un po' spacca il cervello perché è ok però attività di interesse generale quanto è diverso dal servizio pubblico e quanto questa dimensione qui convive con quella torsione e quanto il fatto che la dimensione delle politiche più macroscopiche le definirei così anche se non credo che sia una categoria tecnica macroscopiche quelle che riguardano gli accordi per l'esternalizzazione delle frontiere quelle che riguardano gli accordi con i paesi terzi e vedi scorrendo sono poi guidate dallo stesso pensiero che guida la riforma del terzo settore e questa riflessione qui che sembra un po' metafisica me ne rendo conto in realtà riguarda dal mio personalissimo punto di vista molto di quello di cui abbiamo discusso questa sera e due mercoledì fa e credo anche un po' di quello che discuteremo mercoledì prossimo perché riguarda fondamentalmente quel quello che Monia Giovannetti l'anno scorso ci ha ricordato essere un sistema separato di welfare un sistema separato di welfare pubblico però che noi sul tema delle migrazioni abbiamo dismesso per appaltarlo ad un settore che è terzo e di nuovo qua un altro pezzo della mia vita riguarda molto il terzo settore perché mi occupo di processi di partecipazione soprattutto legato alle politiche pubbliche e al terzo settore nei territori fuori dalla valle dell'Adige qui in Trentino e quello che osservo lì è che la dimensione di interazione la dimensione cerotto perde di vista il connotato il colore della pelle adesso lo dico nel modo meno tecnico possibile cioè quella dimensione di perdita di vista non è poi tanto diversa dopodiché i processi di razionalizzazione sono molto forti sono molto forti proprio perché quel processo di diffusione è stato in qualche modo invertito e perché alle frontiere esterne pestiamo le persone invece che salvarle e quella che diceva prima Silvia rispetto a questo è evidente sui territori però trovo estremamente interessante e vi ringrazio molto per questo perché la riflessione che forse la intendevamo molto di più sull'operativo sulle dimensioni davvero dell'ultimo miglio è riuscita ad andare a inserire quell'ultimo miglio all'interno di un discorso molto più ampio molto più complesso che credo ci serva disperatamente perché un elemento che costantemente e noi probabilmente noi qua intendo come università tendiamo a fare è a tenere separati questi due piani quando separati non sono i border studies in Italia sono ancora troppo poco affrontati i postcolonial studies sono ancora poco affrontati e questi due temi border e postcolonial sono due temi che riguardano fortemente la questione dell'integrazione o dell'interazione insomma un pezzo di quella problematicizzazione passa da qui perciò vi ringrazio molto per questi stimoli spero siano stati interessanti e utili anche per tutti e tutte voi vi ringrazio anche insomma per aver partecipato e vi do appuntamento a mercoledì prossimo mercoledì prossimo affronteremo il tema appunto delle minacce date dallo sfruttamento lavorativo sfruttamento lavorativo che è stato sempre un po' l'ambito in questi appuntamenti ecco mercoledì entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere più da vicino le sue dinamiche o alcune di queste ringrazio molto Luca Di Sciullo Carlotta Giordani e Silvia Valduga e ci vediamo mercoledì grazie 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 a tutti